Sani e salvi per un soffio. Quattro persone fuori dall'appartamento un attimo prima che crollasse. Tra loro i coniugi Luciano Massafra e Laura Indelicati. Vivo per miracolo, sì. È uscito un attimo prima che crollasse. Due minuti prima. Io, mia moglie e mia socia. Ha sentito lo scricchiolio, ha sentito l'umore? Sì, ho sentito lo scricchiolio e subito sono scappato. Signora, tanta paura. I sacrifici di una vita, persi così. Paura. Comunque è andata bene. No, non è andata bene. È andata bene per gli altri, non per noi. Siete vivi. Eh, siamo vivi. L'abbiamo perso tutto, tutto, tutto. Ginosa, ore 13.30, via Matrice, centro storico, ai margini della Gravina. Un gruppo di vecchie abitazioni in tufo, tutte interessate da ordinanza di sgombero del comune già dal mese scorso, viene giù indiottito dalla terra. I quattro erano entrati in casa per recuperare qualche suppellettile. L'intera area, già da tempo interdetta al traffico veicolare e pedonale, viene messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Il cedimento, a quanto pare, interessa tutto il costone della Gravina. Ci vorrà tempo per rimuovere le macerie e capire cosa è realmente accaduto sotto le abitazioni, nelle cantine scavate nella roccia. Le piogge abbondanti, certo, ma come sempre la mano dell'uomo. Troppi lavori di ricostruzione e sopraelevazione.